salve il solito video per top plan da paolo bruschi ho mandato due video non l'avete fatti vedere non l'avete fatti vedere non mi importa comunque io ve lo mandate voi non l'avete fatti vedere comunque sono molto molto incazzato sono molto molto incazzato non ovviamente per la vittoria della juve con quadrado in versione manzo dice che fa un grande gol di testa sono molto incazzato per le continuo fango che tirano addosso la juve ora è stato deferito allegri per problemi con la giustizia non se ne può più veramente di questo continuo fango che tirano addosso la juventus speriamo bene ma stavolta siamo uniti ma teniamo gli occhi aperti teniamo l'occhi aperti perché questi questi ci provano di nuovo e ora vanno a cercare altre vie quella del presidente agnelli per cercare di trovare qualcosa per di nuovo aprire qualche qualche fattaggio di condannarci di nuovo questa volta non ci riusciranno quindi sono veramente molto incazzato veramente molto incazzato perché non ce ne può veramente più non ce ne può veramente più di questo di questo di questo fango addosso alla juventus poi torniamo alla partita partita non bellissima anzi molto brutta primo tempo buono finché non si è fatto male di bala e poi abbiamo visto che i guai non è in gran forma e quindi vittoria vittoria un gioco non molto bello poi volevo dire della palli quale non ho potuto dire niente sul sorteggio del barcellona e sarà una partita difficilissima col barcellona e oggi come se giochiamo così sarà durissima passare comunque io sono giuventino non giuventino si deve sempre credere al passaggio del turno col barcellona e quindi ora vi saluto ma ripeto sono molto molto incazzato molto molto incazzato con questo continuo fango alla juventus veramente ora stanno provando con agnelli e chissà qualche altre cose proveranno comunque un saluto da paolo bruschi da sansepolcro per toplane che ripeto ho mandato due video ma non l'avete fatti vedere ciao buonasera buonasera